Trimestrali all'interno dell'aula consigliare, cosa chiedete? Noi stiamo facendo un'occupazione pacifica, democratica, educata e gentile, siamo tutti i padri di famiglia, però che dobbiamo andare a lavorare. Un mesetto fa mi sembra è sceso il Presidente della Regione Crocetta a inaugurare il megafono per 150 persone del megafono. Attenzione, non per il problema della città o i problemi degli operai trimestrali all'addedolo oppure i problemi dell'acqua che ci attanaggiano tutte le situazioni. Noi ci abbiamo detto a Crocetta un semplice motivo, abbiamo detto direttamente Signor Presidente, mi scusi, l'informazione a titolo... Ma la gestione dei rifiuti, chi la deve gestire e chi è la responsabilità? L'amministrazione comunale o la Regione? Crocetta gli ha detto a noi, qua sono i miei colleghi, tutti i testimoni e lo possono anche firmare. Gli ha detto, queste frasi e parole, ragazzi dipende dall'amministrazione comunale, da oggi in poi l'amministrazione comunale si può andare per conto suo, in Aro, in Aos, in privato, perché già hanno letto un Presidente che si chiama Ortega dell'SRR. Ora vengo e mi spiego, noi siamo precari degli attori fiuti, siamo qualificati operatori ecologici, tutti gli effetti siamo operai prestati dall'addetolo a svolgere il servizio, come pulsi delle spiagge. Domani, che è martedì, il servizio delle spiagge lo prende l'addetolo con gli attrezzi, le ruspe, le palameccaniche e i ragni, però che li vanno a affittare. Prendono dei soldi in noleggio, a luogo di dare lavoro a 30 padri di famiglie, gli danno in noleggio. Allora, vengo e mi spiego, ma il Comune si ha fatto un Presidente della SRR, una pianta organica, penso che ce l'ha come il Prima di Montecchiaro, no? E come la deve gestire se è competenza del Comune e la gestisce da domani stesso? A questa adetolo la manda a casa, perché il Comune paga 6 milioni di euro all'anno, 530 mila euro al mese, e ci sono 6 impiegati comunali, prestati all'addetolo ambiente che fanno il servizio creduto, all'addetolo ambiente pagate dall'amministrazione comunale, che sono carente di personale, che noi siamo personale, siamo uomini, siamo fatti di carne, non siamo fantasmi, e ne abbiamo manca lunghi, e manca un betto. Noi chiediamo all'amministrazione attuale, con la competenza regionale e commissaria dell'addetolo ambiente, fare un incontro al punto, parlare democraticamente sulla legalità a pubblico, a pubblico, vediamo chi ci ha torto, o la Regione o il Comune. Noi, detti trimestralisti, stiamo occupando l'Aula da ora, zina domani mattina, zina dopo domani, zina dopo domani, zina dopo domani. Facciamo sempre pacificamente, è normale, ovviamente, perché siamo esseri umani, non siamo lupi, oppure ci mangiamo alle persone. E chiediamo un incontro al Signor Eccellenza e al Prefetto Diomedio, che scende all'Icata per risolvere questi problemi, che sono turbolenti, molto turbolenti, sentrate, suscite, sta palla, passa mia, passa tia, passa tia. Qua siamo 30 padri di famiglie che dobbiamo andare a spavare le nostre famiglie. E noi oggi, diciamo, all'amministrazione, al Sindaco, al Assessore Arrama, alla Giunta, Assessore, Consigliere, alla maggioranza della posizione, che nessuno prende pa... nessuno no. Togliendoci a qualche due persone che si ribellano alla maggioranza e che si ribellano, nessuno parla. Noi non volevamo morire di fame, perché noi sopravviviamo dei tre mesi e gli altri nove mesi che facciamo? Noi da oggi stiamo qua e vogliamo il Prefetto, perché noi da domani le ruspe non vadano a lavorare sulle spiagge. Ci vanno i trimestralisti che l'hanno fatto ogni anno per decenni.